Musica Musica ma spiegate tutti i figli a rinnovarmi questa diventa che è una volta molto buona, è molto direttamente buona allora dovrete portare un cammino e tre anni nella nostra produzione non c'è problema l'unica è che devono a portare il loro riprendere le comunicazioni della loro tumore in il nostro documento, quindi al conoscimento e dovrete comunque dare un'esperienza realizzata da fuori in modo che se il compito, i dati, il bambino, le corse o varie comunque non ce la prenderemo, oppure comunque è responsabile io non sarò a punto della nostra scuola e poi c'è anche la possibilità di visitare questa scuola di Bologna si chiama un buon piccolo di Germagnara e proprio in Bologna e Dicino in che maniera siamo noi proprio perché il suo stando, proprio la sua caratteristica principale è quello di leggere il gordo mandino quello che non è quello che cresce insieme ma anche nella regione raccoglieremo le persone che vorranno mettere a disposizione come studenti insegnanti per il conto di recupero le tattie dagli studenti quindi dovranno venire da me o soprattutto da lui a dare il proprio nominativo e la materia per cui vuole piegare e metterci a confronto con gli studenti che hanno bisogno Allora, la spianza dei sconti che avevamo detto che la volevamo fare la stiamo facendo, abbiamo tirato vari negozi siamo riusciti a trovare degli sconti, diciamo, deboli non parla di un 10% e un po' di negozio e abbiamo trovato il bar di Dicino in Fuoco quello della Play quello della Play, dai grazie a tutti